Salve a tutti ragazzuoli, vi rubo solo 5 secondi per dirvi una cosa, il video in questione è un video ironico, quindi mi raccomando ragazzi non mettete commenti stupidi o ignoranti o insulti vari perché verranno cancellati immediatamente, quindi ragazzuoli grazie ancora per il vostro supporto, mi raccomando lasciate un bel mi piace e noi ci rivediamo la prossima volta con un nuovo video, ciao ragazzuoli! Salve a tutti ragazzuoli, qui il vostro Gianmi94 e oggi vi porto proprio un video profumato, profumato, qui con me c'è Francesca, Francesca adesso vedrà il video di cui parte la ship, non so che cazzo sia di Anthony di Francesco e vedrete la sua reazione, prima lei e poi io Io non lo, ve lo giuro su Dio ragazzi, non l'abbiamo vista, questa è la prima volta però se l'avete solo lei, il secondo video con me ci sarà non so quando ragazzi il tempo che mondo e cose quindi ve la carico, ragazzuoli mi raccomando lasciate tanti mi piace per il ritorno di Franci, io me ne vado, au revoir Tonì, io stavo a pensare una cosa, ma dopo tutto questo casino che sta succedendo con te e Cristina, ma perché non fai una canzone? Eh non, non la... Io, sto dato come Somma Bravissimo, 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 complimenti Ma che cosa vuol dire? Ma ti prego è un folletto, cavolo di folletto vestito a zi marrone Ma anche no, ma chi vede me shipà, ma come una chi po' finita? Venga, è arrivato Mago Forest Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma manco in spiaggia si fanno si balletti Scelgo l'outfit, giro il mio blog, mi gridano, li metto in friendzone Ti prego, ti prego Ma sono una nerd da serie tv, nel mio cuore taggato ci sei solo tu Ho messo due parole vicine a un neottiglio Ma che ragazzo è un mago questa, stava dando trucchi di magia Verebbe anche me Oddio, mettiti una maglia più lunga La coreografia l'ho fatta mentre dormiva evidentemente Questo non ha senso Ma chi va da shipà? Mi ha schiocchiato le dita, trovatevi in giamaica Ma che cosa sto vedendo? Ma che cosa sto vedendo? Già è finito Oh, mi sta piangendo Perché? Dato, non può essere tanto brutto Ok ragazzi Grazie per aver visto questo video Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando, lasciate un bel mi piace Per la cavia umana Ti odio E la prossima volta ragazzi Sarà con la mia reaction Grazie ancora per aver visto questo video E noi ci rivediamo In un prossimo video con la mia reaction Statemi bene Ciao ragazzi 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 Ciao ragazzi